Stava facendo la spola per gli atleti quando è andato in fiamme il pullman blindato della polizia penitenziale di Bustarsizio. Il mezzo ha preso fuoco la sera di venerdì 8 marzo nel tratto di strada che collega Ulgiato e Lona a Busto ed è rimasto danneggiato tanto da essere inutilizzabile. Il pullman era diretto a Bustarsizio ed era stato messo a disposizione per il trasporto degli atleti arrivati da tutto il mondo per le qualificazioni di box per le Olimpiadi di Parigi. Il rogo è stato contenuto velocemente e non ci sono stati feriti. Al momento mi pare che non ci siano riscontri differenti, sembra che dare il via alle fiamme sia stato un cortocircuito. L'autobus è stato rimosso con un apposito carattrezzi nella mattina di sabato 9 marzo.